Salve ragazzi, piccolo video volevo fare per Divock Origi. Ho appena letto stamattina che si è infortunato, cioè non infortunato, che ha avuto un affaticamento muscolare e non riesce a partire per Genoa. Dunque, a meno che non giochi da titolare con la Dinamo Zagabria, io posso dire solo una cosa. Che due coglioni con Origi e Origirut avevamo le punte a posto. Ma come facciamo a fare l'alternativa al povero Olivier? Se sia Rebic, sia Origi non sono in forma. Ma si può sapere che cazzo succede? Tutti dicono che però la Juve tiene Pogba, Chiesa, però l'Inter tiene Lukaku infortunato. Eh, ma il Milan di infortunati ne ha sei adesso, perché abbiamo Ibrahimovic, Krunic torna alla prossima forse. Forse col Napoli, ma non sarà neanche tanto in forma. Poi abbiamo gli infortunati Florenzi, che starà fuori, come si chiama, per cinque mesi. Mo si è unito pure Origi, Rebic, cioè non Rebic, c'era già, volevo dire, ci sta Rebic, che è capace di stare fuori in un anno e sono quattro. Il quinto, mo i Origi. Oh! Ma si può sapere che cazzo c'abbiamo nella testa? Cioè, ai tempi di Kaka, questi qua, la gente, insomma, nel vecchio Milan, la gente giocava anche con una gamba sola. Ma si può sapere che cazzo c'hai di Evok? Allora è vero che abbiamo fatto un grave errore a comprarti. Beh, in realtà a prenderti a zero. Figliamo un attaccante un po' più sano, spendendo un po' più di soldi, tipo un Kunku, ad esempio, dell'Ipsia, e ora stavamo bene. Voi siete però come incendinità della preparazione, e ho capito, però non è possibile, ragazzi, che Origi c'è, dico io, non è possibile che ci mettiamo... Quando vuoi cominciare a giocare regolarmente? A novembre, ci stanno i mondiali. Guarda, non so che dirti, Rivok, perché me la prendo con te? Perché potevi evitare di farti quell'infortunio, magari, che ne so, evitavi quelle giocate, o magari, che ne so, chiedevi a Klopp di non giocare perché magari volevi prepararti per il Milan, Jürgen, il nome di Klopp è Jürgen, per chi non lo sa. Jürgen, chi vorrebbe accontentato? Tu invece hai voluto giocare con quella merda di Everton, o quello che era, e poff, infortunato per due mesi. Hai cominciato ad agosto la preparazione, ma neanche tanto, cioè a metà agosto, ed ecco i risultati. Non riesci a stare al passo con gli altri, giochi poco tempo, e poff, affaticamento. Ecco, io lo sapevo, guarda, e ora il povero Giroud si infortunerà pure lui perché, come leao, perché quei due poveracci non possono fare sempre gli straordinari, e giocano ogni tre partite, sono esseri umani. Cioè tutte le tre partite, sono esseri umani, che cazzo. Con Rebic e Euriki avevamo un buon turnover e finiva lì, mannaggia a te. A Rebic, anzi a voi, mannaggia sia a Rebic che a Euriki, guardate, dannati entrambi, non so che cazzo dirvi. Bene, stasera c'è Forza Milan, ci sta Sampadonia Milan, che devo dirvi ragazzi, non so che mi cadono le braccia.